300 CV, lo scatto da 0 a 100 in 5 secondi, un peso piuma per la categoria ed un motore 2.000 TFSI completamente rinnovato che la catapulta sulla soglia dei 250 km orari. La nuova Audi S3 ha messo le ali. Il bagaglio tecnico e le forme muscolose ed eleganti dell'A3 vengono ulteriormente estremizzate e la sportività accentuata dalla presenza di particolari in tinta alluminio, ruote da 18 pollici e doppi scarichi posteriori. Di serie la nuova Audi S3 è equipaggiata con il cambio meccanico a sei marce, ma come optional si può avere l'assetronica a doppia frizione e sette rapporti. La versione 2013 riporta alcune differenze rispetto al modello precedente, asse anterior avanzato, motore più leggero di 5 kg, cofano motore in alluminio, assetto ripassato rispetto all'Audi A3 normale ed impianto frenante con dischi autoventilanti. Tralasciando le lodi sperticate per la qualità e lo stile teutonico dedicati per la definizione e il confezionamento degli interni, è interessante sottolineare che la strumentazione per la prima volta prevede il manometro del turbo. Anche i sedili sportivi dotati di seduta allungabile estraendo il cuscino, rappresentano un ulteriore accento sportivo all'interno di un ambiente molto curato. Grazie per la visione!